Dopo un libro dedicato ai miracoli della fede, Safiria Leccese, che è qui con noi ospite in studio e che ringraziamo per la sua disponibilità, ha scritto un nuovo libro sui miracoli della carità, perché anche la carità può fare miracoli, tanto da convertire l'economia che finora sembra sia stata sempre soggiogata o sottoposta dalla cosiddetta legge del profitto, legge della domanda e dell'offerta, adesso ha riscoperto una nuova legge, la legge appunto della carità, la legge dell'amore. E questo è quanto emerge dal libro La ricchezza del bene, scritto appunto da Safiria Leccese, che racconta varie storie attraverso le quali si può dedurre proprio che ci sono degli imprenditori capaci non solo di fare imprese in maniera intelligente, ma anche di fare carità con altrettanta intelligenza e amor del prossimo. Allora Safiria, com'è nata l'idea di scrivere un libro sulla ricchezza del bene, che può essere anche invertito sul bene che si può fare con la ricchezza? Esatto, intanto grazie di questo invito in un posto diciamo che mi è particolarmente caro, qui da voi a tornare a Padre Pio TV dopo il primo libro che tu hai citato, è un'emozione grande, quindi veramente ti sono grata. E l'idea di questa, effettivamente la ricchezza del bene, c'è stato anche un momento che ho pensato il bene della ricchezza, però invece è proprio la ricchezza del bene perché queste dieci storie sono dieci storie di imprenditori ricchi, cioè di imprese che hanno avuto successo, perché quando giustamente tu hai parlato di carità, che è la forma diciamo più alta dell'amore e della donazione, spesso ho l'impressione che noi possiamo poi equivocare. Cioè uno pensa alla carità e pensa sempre ad una forma di gratuità che non sia solo spirituale ma anche materiale, cioè faccio riferimento evidentemente alle imprese no profit o comunque alle associazioni, alle fondazioni senza scopro di lucro che hanno un grandissimo merito, ma io invece parlo proprio di imprese, quelle con tanto di bilancio e anche con un bilancio pesante per l'economia italiana perché come tu sai, perché conosci bene questo libro, ci sono anche imprese che hanno messo il nome dell'Italia nel mondo, alcuni leader a livello internazionale con miliardi di euro di fatturato, quindi giustamente tu parlavi di carità, ma è una carità che viene fatta innanzitutto nella modalità in cui questi prodotti vengono messi in atto, ci sono persone che producono pompe d'acqua per estrarre acqua, c'è chi produce cioccolate, c'è chi produce abbigliamento tecnico, c'è una banca, c'è un ospedale, quindi sono beni diversi, ma qual è il vero filo conduttore? E' proprio questo bene, che parte non come filantropia, ma parte proprio dall'inizio, però non volevo sviare la domanda che tu mi hai fatto, come è arrivata questa idea, quindi riparto dall'inizio e l'idea mi è nata veramente di lontano Stefano, perché l'economia per me è un interesse molto antico, quanto che i primi soldi dopo la laurea li ho guadagnati facendo ricerche in economia e poi l'ho anche insegnata all'università per anni, però ero sempre convinta anche per una formazione mia personale di allora che chiaramente l'economia non andasse d'accordo con l'anima, cioè o fai soldi o hai un'anima, quindi che gli imprenditori, l'impresa e l'economia dovesse essere fatta con dei canoni che non tenessero conto della centralità della persona, diremmo oggi, no? E invece poi andando avanti anche così in un cammino personale di approfondimento di alcune cose mi è venuta questa idea, dico ma in effetti se è il modo a caratterizzare tutto ciò che noi facciamo, noi siamo giornalisti, ci occupiamo di carta stampata, di televisione, eccetera, ma quello che veramente ci fa unici è il modo in cui facciamo le cose, ma allora se è il modo vuol dire che esiste anche un modo di fare impresa, di fare economia, di dare stipendi alle persone che sia orientato al bene e poi la vita mi ha messo sulla strada questo premio degli imprenditori del bene comune che si tiene a Verona ogni anno, mi hanno chiamato a condurla e così ho conosciuto delle persone di carne che incarnavano questa economia fatta nel bene, ecco così è partorita l'idea, poi chiaramente sono andata a pescare anche persone in giro per la mia vita perché una volta che si è innescato il motore poi si è allargato. E secondo te le dieci storie che sono contenute in questo libro esauriscono il bene che si fa nell'ambito di aziende che hanno la loro missione imprenditoriale di fare profitto ma che a questo aggiungono anche una missione del cuore. Assolutamente no e meno male aggiungo. E quindi si farà un altro libro? Già me l'hanno detto, guarda che perché è stato molto bello andare a Milano a parlare del libro e scoprire che una delle persone che ne parlava diceva ma perché non ci sono anche io in questo libro che come imprenditore ho fatto questo, questo e in realtà è uno scherzo ma non tanto. La tua domanda è molto bella perché ci dà l'occasione di dire che c'è tantissimo bene non raccontato. C'è molto più bene fatto che bene raccontato, un po' perché diciamo noi che facciamo questo mestiere facciamo fatica, ora voi qui siete a Telepadri Pio TV, mi avete ospitato in un'oasi che possiamo definire un po' felice no? Perché è una televisione che nasce già con una missione, però diciamo in generale è un po' difficile raccontare il bene, infatti io nella prefazione inizio proprio dicendo ma come mai che è così difficile raccontare il bene perché ci vuole un pizzico di coraggio e poi forse ci vuole anche un modo che non sia questa idea che il bene sia anche una melassa che sia anche, cioè non confondere il bene col bonismo, non confondere la carità con questa smielatura no, cioè il bene è il bene e va raccontato e ce n'è molto di più di quello che sono riuscita a racchiudere in dieci storie e ti devo dire che tra i frutti di questi primi mesi, perché il libro è uscito in lockdown e tra questi primi frutti vedo proprio questo, che parlare di queste cose sta attirando altri a dire guarda che ci sono anch'io, ci sono anch'io, guarda che forse tu non conosci questa storia quindi questo mi dà anche tanto conforto perché vuol dire che c'è tanto bene da poter raccontare ancora e da invogliare gli altri a dire guardate e anche i ragazzi se voi volete intraprendere qualcosa non dovete pensare che o intraprendete qualcosa nel bene e quindi siete come direbbero a Roma sfigati e non tirate su un quattrino e non potete avere collaboratori oppure fate quelli che fate l'esercito fate la dittatura nell'azienda, mettete sotto tutti, li calpestate e fate voi solo i ricchi quindi non sono queste due cose, si possono conciliare, questa è la parte più bella che spero che venga fuori dal libro Senza farti promettere niente, diciamo che è possibile che venga fuori un secondo la ricchezza del bene una parte due Assolutamente, assolutamente Vogliamo fare qualche esempio, almeno una di queste storie, magari senza fare nomi ma diciamo raccontando quello che fa uno di questi imprenditori che hai incontrato Io i nomi li faccio volentieri se tu mi dai l'autorizzazione Ma facciamoli Perché sono imprese diciamo italiane che prima di tutto non hanno bisogno certamente della nostra pubblicità ma poi io li tratto proprio come casi, diciamo che esistori di questo tipo di imprenditoria Nel libro ci sono grandi aziende come, e conosciute come Ferrero, Branca, Mediolanum, Thun, Pedrollo, Campagnolo Sono tutte la Mediterranea, c'è l'ospedale Stella Maris che è un centro di eccellenza che non molti conoscono si conoscono a volte le cose nei momenti del bisogno, no? Che curano i bambini dai 0 a 18 anni e sono un'eccellenza a livello europeo e poi l'ultima la storia di Carlo Acutis che tra poco diventerà Beato 10 ottobre che sembrerebbe entrarci poco ma poi se vuoi ti racconto perché c'entra e quindi sono tutte storie, questi nomi grandi, alcuni molto grandi e conosciuti altri ugualmente grandi, meno conosciuti, diciamo dalla massa, diciamo così possiamo fare il caso, ecco, possiamo fare un caso che è talmente grande da non essere passabile dall'avere bisogno di pubblicità che è quello di Ferrero Ferrero ha una storia, Stefano, che io sono rimasta, io per prima sconvolta perché tutti i conti hanno detto, guarda Ferrero viene studiato anche ad Harvard per la modalità in cui ha messo su l'impresa ma poi quando ci sono andata dentro, ora tutti noi siamo consumatori dei vari prodotti loro a cominciare dalla famosa Nutella e il punto qual è che mi ha affascinato che questi due signori, marito e moglie, avevano messo su una pasticceria perché lui sapeva fare bene i dolci, lei sapeva fare bene i conti, si volevano molto bene quando è nato questo figlio Michele, Michele era diventato l'assaggiatore insieme alla mamma di tutti i pasticci del padre, poi hanno cominciato a coinvolgere lo zio e si sono inventati in un momento vicino alla guerra in cui non c'era il cioccolato in Italia perché costava troppo era il tempo in cui si regalava una barretta di cioccolata se eri ricco alla prima comunione si sono inventati di fare un dolce con l'oro del Piemonte che era la nocciola e quindi è nato questo primo panetto lo andavano a portare con, riempivano il portabagalli del loro furgoncino e lo andavano a portare alle fiere di paese qual è la cosa bella? Che da allora, quindi da zero a quando loro hanno cominciato piano piano a crescere ma in questa modalità cioè, da un camioncino poi sono diventati due poi hanno chiamato l'amico dello zio poi tre camioncini, poi sono arrivati quelli a lavorare poi sono arrivati i dipendenti poi hanno cominciato a comprare i macchinari per ora ho cominciato a dire no no, io non voglio che le persone si sdradichino dalle loro case per venire in azienda li manderò io a prendere manderò io con i pullman della Ferrero li pagherò io a prendere i lavoratori portarli in azienda e poi riportarli a casa e ci sono questi racconti meravigliosi che tornavano a casa giocando a carte perché poi tornavano e coltivavano il loro fazzolettino di terra ed erano a casa loro con le famiglie questo che vuol dire? che tu ti preoccupi della gioia, della condivisione e della felicità ora Ferrero fa fatturati di miliardi in euro non c'è bisogno di dire quanti ci sono 23 stabilimenti nel mondo ci sono migliaia di dipendenti in tutto il mondo ma questa modalità è rimasta loro la chiamano la ferrerite e dicono che quando si entra in Ferrero bisogna capire qual è la mentalità e la notizia c'è sui giornali quindi non svelo un segreto di tre giorni fa che siccome con il covid un po' tutti abbiamo consumato più dolci e quindi i fatturati sono addirittura aumentati ci sarà un bonus in busta paga per tutti i dipendenti qualsiasi ruolo occupino dal primo all'ultimo che tu sei entrato oggi o che ci sei da 25 anni cioè sono tutte cose che parlano di un bene che poi si riversa sulla società tanto è vero che molti di loro sono stati tra i grandi donatori del coronavirus e proprio quelli che ho citato prima sia lo stesso Ferrero che Branca che Mediolan hanno fatto tutti qualcosa Pedrollo ha convertito la costruzione di pompe idrauliche l'ha convertito in respiratori ha fatto arrivare le mascherine Branca ha dato migliaia di euro di distillati altri hanno fatto donazioni in soldi Campagnolo lo stesso ha mandato i respiratori in Africa dove ha fatto costruire gli ospedali già in questi ultimi 30 anni ecco c'è un bene condiviso non so se riesco a passare questo è chiarissimo ma hai avuto difficoltà a farti raccontare questo bene perché talvolta chi fa del bene preferisce viverlo nel nascondimento per evitare che il bene si trasformi in una sorta di autoreferenzialità e diventa difficile convincere queste persone che il bene nel momento in cui viene rivelato, pubblicato diventa testimonianza e quindi può diventare occasione di emulazione da parte di altri hai avuto difficoltà tu a farti raccontare queste storie? un po' sì ti dico la verità un po' sì perché diversi di loro come dico io hanno la patologia della riservatezza ti dico soltanto che una presentazione che abbiamo fatto in Zoom uno di loro c'è stato tutto il tempo ed è stato nascosto cioè non solo non ha voluto parlare ha tenuto la telecamera spenta perché sono convinti che il bene vada fatto però io ho usato proprio queste scamotage che hai detto tu ma nella quale credo profondamente che una modalità è anche e soprattutto testimonianza e soprattutto li ho attratti anche perché molti di loro sono proprio fondatori ora Ferrero Michele non c'è più ci sono i figli grande devoto di padre Pio veniva sempre qui grandissimo, grandissimo devoto di padre Pio grandissimo credente madonna di Lourdes in tutti gli stabilimenti e quindi veramente è una personanza molto particolare ora c'è il figlio Giovanni a guidare l'azienda perché l'altro purtroppo è venuto a mancare da giovane e quindi lui è una persona che ha una riservatezza proprio ho dovuto togliere i virgolettati perché io per cercare di dare come dire anche una fruibilità al lettore alcune cose che però le avevo prese dalle loro bocche o dai loro racconti o da virgolettati di testimoni oculari li avevo messi virgolettati sotto forma di dialogo ho dovuto toglierli tutti nel loro caso perché e l'ho fatto, l'ho fatto per rispettare quella memoria perché era l'unico che invece gli altri sono tutti grazie al cielo vivi quindi tutti i fondatori mi hanno raccontato però per venire alla tua domanda io siccome sono persone che naturalmente avendole fondate queste aziende e tirate su dal nulla sono persone mature, quindi che si aggirano sui 70 anche oltre ho pensato ai loro figli, ai loro nipoti ho detto ma voi un testimone che volete veramente lasciare tra 100 anni che cosa volete lasciare a parte le mura, a parte tutta questa ricchezza che si è prodotta bisogna parlare del bene perché voi siete l'incarnazione che si può fare del bene avendo successo e avere successo facendo del bene e questa è la cosa più bella perché è l'antidoto come io dico io mi auguro che queste pagine servano d'antidoto a chi pensa che o tu sei un po' diciamo disgraziatello e schiacci gli altri e quindi emergi tu e diventi ricco oppure invece ti metti in un cantuccio ti rassegna al nulla o alle briciole e però sei buono no, non è così la vita non è così la vita è un modo in cui noi scegliamo di fare le cose esperienza pratica ultima domanda Carlo Acutis che c'entra con questi imprenditori visto che è morto a 15 anni Carlo c'entra moltissimo e la mamma quando io ho detto io vorrei parlare di Carlo e lei ha detto ma scusi ma se lei fa un libro sugli imprenditori perché vuole parlare di Carlo che è morto a 15 anni anche se ha un bambino molto speciale si sapeva già che è morto in odore di santità tanto è vero che diventerà beato il prossimo 10 ottobre perché Carlo è un bambino che è nato in una famiglia ricca non è nato in una famiglia ricca per eredità solo lui è nato in una famiglia ricca di imprenditori suo nonno ha fondato una grandissima azienda che c'è ancora adesso suo papà è un imprenditore di una riservatezza per cui non voglio neanche dire qual è l'azienda per rispetto a questa grande riservatezza e quindi Carlo è nato in una famiglia dove i soldi erano disponibili dove c'era una grande cultura dell'impresa ma aveva capito in quella sua così giovaneta quello che magari tanti di noi non capiscono neanche molto più avanti cioè che i soldi non sono un peccato i soldi vanno usati il problema è il come stiamo sempre al modo delle cose cosa ne fai dei soldi e Carlo già da ragazzino aveva capito che della sua paghetta cosa ne faceva andava a comprare sacchi a pelo per i sottotetti sotto casa non è che Carlo è andato in Africa lui faceva tutti i viaggi santi ma li faceva per la sua mostra dei miracoli eucaristici perché era un bambino che evidentemente diciamo aveva dentro di sé un seme particolare da ragazzino da quando aveva 4 anni faceva le domande alla mamma le metteva in difficoltà sulla Trinità, su Gesù alla fine lei, Antonia, si è messa a studiare per rispondere al figlio si è messa a studiare teologia perché ha detto io non posso fare una figura di essere screditata come mamma quindi Carlo c'entra perché Carlo, la sua vita testimonia una modalità di usare la ricchezza non disprezzarla usarla per il bene questo è il primo motivo il secondo è che poi diciamo dal germoglio di Carlo diciamo da questo chicco che è caduto in terra è fiorita anche un'impresa al contrario nel senso che i genitori hanno messo su un'attività di produzione al contrario dove loro non guadagnano ma investono soltanto fanno guadagnare altre persone perché producono audiovisivi, cartoni animati, documentari tutto al solo fine di evangelizzare quindi portare avanti quello in cui Carlo credeva quindi in questo caso è un bene che ha generato ricchezza però è partito da una ricchezza che ha generato un bene noi da questi imprenditori soprattutto leggendo questo libro La ricchezza del bene che trovate in tutte le librerie comprese quelli di San Giovanni Rotondo potremmo attingere tanto per arricchirci non solo dal punto di vista spirituale ma per capire anche come si può essere anche imprenditori di se stessi con quel pizzico di bontà dentro che fa crescere l'azienda e anche la nostra capacità di guardare al prossimo con occhi nuovi grazie a Safilia per la sua presenza qui tra noi oggi grazie a te, grazie a voi e grazie a voi amici telespettatori